... ... ... ... Come è andato l'esame? Ho preso 28? Io lo so che non dovrei più mentire a mia mamma, però non ce la faccio. No, non così. Devi fare i petali più larghi. Dobbiamo fare il piano di lavoro per la settimana. Oh, il cane va solo a casa. Non è possibile sempre con questo cane. Buongiorno, Eva. Avrei bisogno di una dog sitter. Il mio cane si chiama Spotti. Quando l'ho visto la prima volta mi hai preso un colpo. Ma mi piace un sacco travestirmi. Sai il Luca Comics? È un retuno di matti. Mamma, mi dici che succede? Tu stai con uno che si attravesta da cane e mi chiedi che succede. Ma te che cazzo ne sai di chi è lui? Tu sei perfetta. Sì, tu sei niente, niente.